Striani e Fiumani ha organizzato una serie di eventi fino al 28 febbraio per ricordare la tragedia dell'esodo. Un'iniziativa è stata la proposta di conferire alla città di Gorizia un premio speciale. Vediamo il servizio. In occasione della giornata del ricordo 2012, la città di Gorizia è stata premiata dal presidente Giorgio Napolitano su proposta dell'associazione Venezia Giulia e Dalmazia come città che ha accolto migliaia di esuli cercando di dare loro ospitalità e conforto creando anche un intero quartiere per queste persone con i nomi delle vie e delle località abbandonate come Piazza Fiume, Via Pola eccetera abbandonate da quella che possiamo definire una vera e propria pulizia etnica. Una vera e propria pulizia etnica. Lo scopo del marasciolo Tito nella nuova Repubblica Federativa Jugoslavia era proprio quello di togliere, di slavizzare completamente terre d'Istria e fiume Dalmazia che da sempre erano italiane, prima veneziane e prima ancora romane. Basti pensare che su 500.000 abitanti che risiedevano, che vivevano nell'Istria, ben 350.000 scelsero, scelsero, furono costrette all'esilio. L'esilio per pure della propria incolumità. Esilio perché proprio questa opera di snazionalizzazione veniva fatta nei peggiori modi. Veniva fatta con le minacce, con le minacce reali, concrete, attendibili, ahimè, delle foibe. Ci sono state 9, 10, 11, 12.000 persone che sono state infoibate. La ragione delle foibe? Certamente, sicuramente dopo l'8 settembre del 43 c'è stata qualche reazione al regime fascista, però chi si era macchiato di reati, certamente dopo l'8 settembre, era già scappato. Perciò tutte queste migliaia e migliaia di infoibati per un'unica colpa, quella di essere italiani e di poter rappresentare un rallentamento, un fastidioso rallentamento, comunque un pericolo a questa slavizzazione celere che Tito voleva fare delle terre di istra e fiume del Mazzi. Concludiamo.